L'ascolto, l'elaborazione e infine gli spunti per incentivare stili di vita consapevoli tra i ragazzi. È questo il progetto Giovani Alcol e Stili di Vita, promosso dal 2014 dal Coeso e dal Comune di Grosseto con il supporto di Simurg Ricerche. Un progetto che arriva nelle scuole. Quest'anno sono stati circa 600 gli studenti del liceo Rosmini coinvolti nell'iniziativa, suddivisa da una fase di ricerca e poi dall'elaborazione di una presentazione. Andare cioè ad analizzare quelli che sono gli stili di vita dei ragazzi, individuare i comportamenti errati ed eventualmente mettere in atto poi dei meccanismi per poterli correggere e migliorare. Affrontare il tema facendo loro alcune domande specifiche e chiedendo loro quali sono magari i problemi che incontrano nella vita di tutti i giorni e quali sono le soluzioni che potrebbero dare e sono tutti elementi che poi noi forniamo all'amministrazione pubblica perché poi faccia una programmazione cercando di supportarli e aiutarli nella gestione delle problematiche che incontrano. Il progetto è arrivato al suo epilogo con la premiazione degli elaborati ritenuti migliori ma oltre ai premi e alla soddisfazione restano le impressioni dei ragazzi raccolte in questo anno scolastico. Le ricerche dicono che a dispetto di quanto noi pensiamo i ragazzi sono molto attenti alla loro salute, almeno teoricamente. Dobbiamo sempre pensare che la raccolta di informazioni tramite questionario può dare modo di raccontarci una verità che è la loro verità. Occorre poi veramente andare ad approfondire queste tematiche. Ma quali sono i problemi che destano attenzione per i ragazzi? I ragazzi sono molto attenti sia all'uso dell'alcol ma sono attratti anche da altre problematiche quali ad esempio il gioco d'azzardo, il bullismo, tutti i temi che in questo periodo abbiamo affrontato varie volte con sfaccettature sempre diverse. L'obiettivo ora è far tesoro di questi elaborati perché possano essere tradotti in progetti concreti.